E' iniziato a Foggia il primo raccolto dei pomodori del riscatto dei migranti extracomunitari ad annunciarlo Coldiretti Puglia che sta portando avanti un percorso di integrazione dei migranti extracomunitari di Casa Sancara. Sono state messe a dimora a maggio le piantine di pomodori lunghi su 5 ettari di terreno ed è iniziata la raccolta del prodotto che sarà consegnato ad un conservificio per la trasformazione dei pelati raccolti e quanto ha spiegato Pietro Piccioni, delegato confederale di Coldiretti Foggia. Dai servizi alla persona all'assistenza fiscale dal rapporto garantito per raggiungere i luoghi di lavoro alla consulenza per le buste paga fino alle vaccinazioni a beneficio dei migranti che lavorano nei campi. Coldiretti Foggia ha strutturato un sistema di supporto e assistenza messo a regime presso Casa Sancara Get Out. E' fondamentale mettere le imprese agricole nelle condizioni di beneficiare realmente del contributo che i lavoratori extracomunitari possono offrire strappandoli dalla condizione di invisibilità. La Coldiretti ricorda che in Puglia è ottenuto da mani straniere più di un quarto del made in Italy a tavola con oltre 38.000 lavoratori stranieri che forniscono il 22,4% del totale delle giornate di lavoro. Soltanto nella provincia di Foggia si contano oltre 973.000 giornate di lavoro fornite da lavoratori stagionali stranieri. Il 27,61% nel totale delle giornate di lavoro necessarie al settore. Infine il contributo dei lavoratori immigrati all'agricoltura pugliese è importante nella raccolta dei pomodori, degli asparagi e dei carciofi e nelle stalle dove sono diventati insostituibili.